Il nostro territorio viene sempre più provato dalla perdita di servizi e di prestazioni e comunque speriamo che in futuro venga particolarmente focalizzato questo bisogno e questa necessità. Che male ha fatto la gente di questa terra per dover vivere in una condizione di così forte disagio? La sanità, così come la viabilità, sono emergenze che vanno poste al centro di ogni sforzo politico ed amministrativo. Al grido di protesta che si alza dalle comunità locali si unisce la voce forte e determinata dei massimi rappresentanti della chiesa locale, dal vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Ciro Miniero a quello della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca. Quest'ultimo, qualche giorno fa, in occasione della presentazione dei bus cardioprotetti, primo caso in Italia, voluti dalle autolinee Curcio, ha elogiato l'iniziativa, ricordando al tempo stesso la grave crisi che sta attraversando la sanità nel territorio a sud di Salerno. Le strutture sanitarie da Polla a Vallo della Lucania stentono e riescono a soddisfare le esigenze degli utenti. Per il vescovo De Luca il nostro territorio viene sempre più provato dalla carenza di servizi sanitari. Speriamo che in futuro venga sempre più focalizzata l'attenzione su questa problematica. La diocesi di Teggiano Policastro è impegnata a sostenere il recupero delle strutture sanitarie. Siamo lavorando, dice De Luca, al fianco delle dirigenze degli ospedali di Polla e Sapri, dove affluisce la maggior parte degli utenti della nostra diocesi. Dobbiamo impegnarci tutti perché gli ospedali sono essenziali per la sopravvivenza di una comunità. Raccoglie le preoccupazioni dei cilentani anche il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Ciro Miniero. Dalla sanità alla viabilità, dice, viviamo in una terra che ha difficoltà ad assicurare i servizi essenziali. Per Miniero la chiusura dell'ospedale di Agropoli ha creato una situazione insostenibile e lo si avverte nei disservizi che arrivano all'utenza dell'ospedale San Luca. Il vescovo invita dunque alla riflessione, se il sistema non funzionare, a maggior ragione chi è deputato a decidere per la comunità deve fare uno sforzo in più per tutelare il bene dei cittadini. Il vescovo Miniero ricorda poi il caso della cilentana, quando il territorio si sbriciola, resta sbriciolato e diventa invivibile. Prima si viaggiava su due corsie, poi meno uno, poi meno l'altra ed ora la strada è completamente chiusa.